Mi piace, ce lo rifai? La prossima puntata ce la rifai? Certo, ve l'ho fatto tutte le puntate. Che cosa vinciamo? Vincete una vacanza? Con te? No, da soli. Allora, una vacanza sessuale, da soli. Allora, che Alessandro, te con tua moglie e Cagliostro con tua figlia Caterina? Ma che fa? Un assegno familiare. Lei è scarbato. Dignene. Davvero. Bene, bene. Inbrausiu. Inbrausiu. Scherzi da presto. Vamorupraju, gente. Non voglia chi. Chi c'è? Ipola, l'ha? Eh, non lo so. Non lo so. Allora, ah. Chi cri cri cri, tocco, tocco. Curu, curu, curu. Chi è? Chi è? Ma ha toccato davvero? Cioè, sembra che ti tocchi davvero. Sembra leale. Allora, se te vai, io sono andato al... Io ho paura. A proposito, no, ma io ho capito perché... Il nuovo anno mi ha fatto male. Ho capito perché l'hai capitato. Guarda, a me non ti è capitato mai e non ti capiterà mai, ragazzi. Non lo so, però a me vedere questo... Vero! Ma cosa è vero? È reale! Ma sei il... Chi è?